Benvenuti a questo nuovo video tutorial ancora una volta sull'utilizzo di GIMP Oggi andremo a vedere come creare un carinissimo effetto pelle Allora, come prima cosa abbiamo un foglio, quindi un nuovo foglio di lavoro Il colore di sfondo non importa, va bene qualunque so sia Andiamo su OK e come primo passo cominciamo a scegliere i nostri colori La pelle solitamente è di colore marrone, quindi andremo a scegliere due tonalità di questo colore Per quanto riguarda il colore di primo piano andremo a scegliere un colore del tipo in esa decimale B07E4B Vedete che è questo tipo di marrone E per quanto riguarda lo sfondo, sempre in esa decimale, D19B58 Vedete che è lo stesso marrone, però di una tonalità più chiara A questo punto andiamo a prendere il nostro strumento sfumatura e scegliendo un'opacità a dissolvenza Che dovrebbe essere la seconda Ci portiamo al centro del foglio e tracciamo una linea verticale Per aiutarci possiamo tenere premuto il tasto CTRL Bene, questo è lo sfondo che abbiamo ottenuto A questo punto aggiungiamo un nuovo livello Trasparente o colorato, non mi interessa Io lascio trasparente, vado su OK E in questo momento ho creato il mio livello Adesso vado su Render Quindi, perdonate, un attimo lo vado a cercare Perfetto, su Filtri, Render, Nuvole, Plasma L'effetto che ottenete è quello che vedete qui nel video Quindi andiamo su OK E avremo ottenuto questo effetto Adesso, sempre avendo il livello selezionato Andiamo su Colori E su Desaturazione Va bene lucentezza OK Andiamo sulla destra In modalità Scegliamo modalità sovrapposto Questo è l'effetto che abbiamo appena ottenuto A questo punto Andiamo ancora una volta su Filtri Disturbo Disturbo RGB Togliamo tutte le spunte E impostiamo un valore di 0,04 Su tutti i parametri Andiamo su OK E questo è il risultato finale A questo punto andiamo sul livello Tasto destro Appettisci immagine Ancora una volta Duplichiamo questo livello Andiamo su Filtri Mappa Mappa sbalzo Lasciamo tutti i valori Così come sono E andiamo su OK Ecco, questo è l'effetto che si è ottenuto Un po' 3D A questo punto Abbiamo completato il nostro sfondo Con questo è tutto Si conclude anche il tutorial Se volete seguirmi Potete andare sul mio sito www.aleinux.it Oppure seguitemi attraverso il mio canale YouTube Alle Inux Fatemi sapere come avete utilizzato questa guida Per quanto mi riguarda Ci vediamo al prossimo tutorial